Sarà Ejob Fagnelli, il maratonetto azzurro residente a San Teusebio, campione italiano in carica di specialità e prima punta della nazionale di maratona per le prossime Olimpiadi, il primo vincitore della stella d'argento giallorossa, riconoscimento assegnato all'atleta di casa maggiormente distintosi nel corso del 2022, secondo il parere di un'apposita giuria, e sarà lui la star del Gran Galà dello Sport di Bassano, in scaletta venerdì sera alle 20 alla CMP Arena, l'ex Pala 2 per intendersi, evento allestito dalla Municipalità che vedrà in passarella tutte le realtà sportive cittadine e diversi ospiti d'onore, tra tutti Daniele Orsato, l'arbitro di Recoaro, nominato miglior fischietto al mondo all'ultima rassegna e ridati in Qatar. Io spero che questa manifestazione diventi una tradizione, la tradizione della nostra città, posso dire anche che per i ragazzi che sanno premiati credo sarà un motivo di grande soddisfazione perché credo che anche per gli atleti di altissimo vertice ricevere anche una medaglia da parte della propria città sia motivo di grande orgoglio. 105 in tutto gli atleti premiati, 24 i club bassanesi insigniti, si annuncia una grande festa, talalto rigorosamente a ingresso libero. Bassano è una città che vanta tantissimi atleti e c'è stato sì l'imbarazzo della scelta, i risultati riportati da ciascuno sono veramente importanti a livello internazionale, nazionale, regionale. Sicuramente chi non ce l'ha fatta quest'anno ha ottime opportunità per farcela l'anno prossimo. Vorremmo infatti che questo appuntamento diventasse annuale, stabile per poter celebrare tutti i ragazzi, gli allenatori e le famiglie che sostengono il grande mondo dello sport.